Si rinnova domenica prossima a Bastia Umbra l'appuntamento con l'invernalissima, la gara polistica nazionale di 21 km con partenza e arrivo al centro Umbria Fiere. L'appuntamento è stato presentato in provincia, a Perugia, alla Sala Pagliacci, dove è stato evidenziato non solo il valore sportivo della manifestazione tra le più attese dell'anno, ma anche il legame con la solidarietà. Saranno circa 2.000 gli atleti al via, tra questi anche il testimonial d'eccezione Leonardo Cenci, di Avanti Tutta, fresco, reduce dalla maratona di New York, dove è stato il primo italiano malato di cancro a concludere per due anni di fila il celebre tracciato. Parte del ricavato dell'invernalissima, infatti, sarà devoluta la fondazione Teleton, impegnata da anni nel finanziare la ricerca delle malattie genetiche rare. Presente alla conferenza stampa, infatti, anche Paolo Gallina, responsabile BNL Teleton, la costola operativa del gruppo bancario, da anni impegnata nella raccolta fondi. Edizione speciale dell'invernalissima, quella del 2017, perché segna i 40 anni della manifestazione, con una serie di appuntamenti collaterali. Si comincia venerdì al centro congressi di Umbria Fiere, alle 15 con l'apertura della mostra storica fotografica d'invernalissima. Sabato pomeriggio poi è in programma un convegno medico sportivo, con testimonianze da parte dei protagonisti del polismo e riconoscimenti ai vincitori delle scorse edizioni. Domenica poi la gara con il via alle 9.30. Accanto alla maratonina, l'invernalissima prevede anche una camminata di 6 chilometri. Aperta a tutti, che si svolgerà in modo sicuro all'interno di un percorso urbano che attraversa la città di Bastia. E per la prima volta ci sarà anche una passeggiata di 3 chilometri in compagnia degli amici Fido, invernalissima a 6 zampe. Alla conferenza di presentazione ha fatto gli onori di case il presidente della provincia Nando Mismetti, accanto a lui Antonio De Martis, presidente dell'invernalissima, e gli assessori Filiberto Franchi di Bastia Umbra e Simone Pettirossi di Assisi.